Abbiamo ideato un provvedimento che ha l'obiettivo di andare ad incentivare il sistema bibliotecario, la fruizione dei libri e incentivare chi, come privati cittadini o associazioni o realtà della nostra città, mettono in qualche modo a disposizione della collettività il proprio patrimonio librario, rendendo in qualche modo pubbliche le loro collezioni. Un incentivo fatto tramite una detassazione di quelle realtà che metteranno a disposizione gli spazi privati per un uso pubblico e una diffusione pubblica del patrimonio librario. Questo lavoro è un lavoro che continua, che continua da tempo, già mi ero occupato del sistema delle biblioteche, così come avevo proposto il tema della biblioteca diffusa, della possibilità quindi di condividere da parte dei cittadini i propri patrimoni, i propri libri, per fare in modo che si possa creare una vera e propria rete di diffusione, di condivisione di quello che è un vero patrimonio culturale. Questo provvedimento è proprio l'idea, il tentativo di dare forza a questo slancio anche amministrativo e anche dal punto di vista di un sostegno economico a quelle realtà e ce ne sono diverse in città già virtuose, così come ce ne possono essere altre tante che possono essere coinvolte in questa rete di una diffusione dal basso della cultura, della promozione alla lettura e di uno scambio che arricchisce tutti e arricchisce la nostra città e il nostro territorio.